ah questo quando scarico l'oggetto in alto a sinistra mi carica le stats non so se mi devo cacare addosso di nuovo povero emma mi ha contato lo stalker ho incontrato hai visto lo stalker che schifo di merda di caccone no non lo so perchè camminavo a quattro zampe e mi dicevo davanti se non sei nel dato guarda allora si è lo stalker si considera che se fai r1 per sentire i passi non lo senti però dovrebbe stare sul tetto in teoria ha parcheggiato oh better feels